Playcar nasce come operatore a Cagliari con una startup innovativa, eravamo un piccolo team di sviluppo che è partito con 9 auto su strada e in pochi anni è arrivata a 100 veicoli e 120 cicli da utilizzare in sharing mobility, quindi gli utenti della città possono attraverso un'applicazione utilizzare questo servizio di mobilità condivisa. Successivamente la piattaforma che era nata per Cagliari l'abbiamo distribuita in diverse parti del mondo e al primo anno di utilizzo proprio perché era nata e personalizzata su una città e quindi c'era un po' il sogno di questa città di sviluppare questo tipo di servizio, siamo riusciti a distribuirla in Argentina, in Colombia, in Lussemburgo, Ungheria e in diversi stati dell'Unione Europea. e adesso l'azienda sta crescendo come startup e tutto il team sono 10 persone, tutti giovanissimi che cercano di distribuire.